24 persone sono state arrestate in un'operazione della DIA di Napoli nell'ambito di un'inchiesta su appalti truccati delle ASL di Caserta, giudicati a imprese del clan dei Casalesi con l'appoggio di politici e amministratori pubblici. L'operazione è scattata all'alba nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere di tipo mafioso, corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e abuso d'ufficio. L'inchiesta riguarda una serie di presunti appalti truccati indetti dall'azienda sanitaria Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Nell'azienda ospedaliera in questione, secondo le indagini, vi era la piena operatività del clan di Camorra Zagaria, fazione del clan dei Casalesi che opera a Casa Pesena in provincia di Caserta, grazie ad una consolidata rete di connivenze e collusioni venutasi a creare sotto la regia dei boss della Camorra casertana, tra appartenenti al mondo della pubblica amministrazione, della politica e dell'imprenditoria. Secondo le indagini, attraverso connivenze e collusioni, il sistema degli Zagaria riusciva a controllare e gestire in regime di assoluto monopolio gli appalti e gli affidamenti diretti di lavori all'interno dell'ospedale casertano. Negli ultimi anni, stando sempre ai risultati delle indagini, il clan si era infatti gradualmente infiltrato nel tessuto politico-amministrativo della struttura sanitaria casertana, trasformandosi in un complesso apparato in grado di gestire gli affidamenti dei lavori pubblici in assoluta autonomia. Ascoltiamo il procuratore della Procura della Repubblica di Napoli, Giovanni Colangelo. Questa indagine ha un significato particolare perché appare assolutamente paradigmatica per illustrare le caratteristiche della Camorra e il suo modo di atteggiarsi più recente. Noi vediamo da un canto la capacità estremamente fluida, elastica e tempestiva di atteggiarsi di questa criminalità organizzata se per esempio deve fare ricorso all'uno o all'altro amministratore, all'uno o all'altro potere politico perché con il venir meno di un referente immediatamente sposta la sua attenzione su altro referente. Poi l'acquisizione di appalti mediante contatti con gli imprenditori consente alla Camorra di acquisire al di là dell'entità dell'appalto, consenso sociale perché da un canto procura lavoro a certe imprese, dall'altro procura posti di lavoro. Vi sarebbero anche due esponenti politici di Forza Italia tra i destinatari dei provvedimenti cautelari, Angelo Polverino all'epoca dei fatti consigliere regionale già coinvolto in altre vicende giudiziarie ed il consigliere provinciale Antonio Maiulo. Secondo le indagini della DDA di Napoli, due entrambi vicini all'ex coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Nicola Cosentino, tuttora detenuto per presunti legami con i clan dei casalesi, erano direttamente impegnati nella copertura politica dell'organizzazione mafiosa casalese. Ascoltiamo il direttore generale della DIA, Nunzio Antonio Ferla. La criminalità organizzata di tipo qualificato come può essere alla Camorra o ovviamente la mafia e all'Andrangheta, oltre a questa capacità di accumulo dei capitali illeciti e anche di forme di reinvestimento e di riciclaggio, tende sempre di più ad aumentare la loro capacità di impiego del capitale sociale, che noi abbiamo definito come questa capacità di sfruttare quelle relazioni che sono all'interno delle associazioni, che sono legami forti e che creano ovviamente affiliazione nell'ambito del clan e la capacità di estendere queste relazioni anche all'esterno, investendo ovviamente soggetti che appartengono al mondo politico, imprenditoriale o anche istituzionale purtroppo.